Buona Pasqua, gelataio! Buona Pasqua, fatti abbracciare! Ah, comunque, preparatevi perché a fine video ci sarà una grande sorpresa per voi! Eccola lì! Suonetta! Buona Pasqua! Buona Pasqua, nonna! L'uovo di Pasqua l'hai mangiato, Emily? L'hai mangiato l'uovo di Pasqua? Allora, siete pronti? Sto per darvi un grande annuncio! Carissimi amici, è arrivato PaninoTube! Ci siamo qua con lo speciale di Pasqua, mamma mia! Infatti, per l'occasione, mi sono messo pure il cappello da festa! Perché oggi si festeggia! Oggi festeggeremo tutti insieme! Bene, innanzitutto ci tenevo a dire a tutti quanti voi, buona Pasqua! Auguri e felice Pasqua a tutti! In questo video andremo a fare gli auguri di buona Pasqua a tutti i personaggi dei giochi che ci hanno fatto divertire in questi ultimi tempi! Purtroppo alcuni, rispetto allo speciale di Capodanno, ci hanno lasciato, come ad esempio Mr. Meat e Scary Teacher, ma ne sono arrivati di nuovi! Quindi, che dire, partiamo subito! Ma come sempre, mi raccomando, lasciate qui sotto tantissimi like! Se il like che lascerete sarà pari, Evil Nun vi darà la buona Pasqua! Se invece sarà dispari, Rod il gelataio vi darà la buona Pasqua! E se invece il numero dei like finirà con lo zero, Evil Emily vi darà la buona Pasqua! Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale personaggio vi è uscito fuori! Iscrivetevi al canale con la campanella attiva per far parte anche voi della Panino Family! E per festeggiare tutti quanti insieme a noi questa Pasqua! Tocchiamo subito play e direi di partire subito con fare gli auguri al nostro caro gelataio! Visto che la serie di Ice Cream è la serie che attualmente vi sta piacendo di più! Cominciamo con lui, no? Proprio per ringraziare anche il Roddino caro! Ok? Vabbè, il firmato lo schippiamo tanto, non ci serve! Ma io non vado a dare gli auguri di buona Pasqua a Charlie e Liz! Perché alla fine è colpa loro che se ne sono scappati, eh! Se ne sono scappati loro! E quindi perché io gli devo dare gli auguri? Perché devo fargli gli auguri e non glieli faccio? Eh, così si imparano, si imparano! Ok, apriamo quella porta, il gelato non ce lo prepariamo perché facciamo gli auguri al Rodd in modalità normale! Tanto Sister Madeline la vedremo breve! E faremo gli auguri anche ai polli mutanti! Ok, apri quella porta, lasciamo qua pure tranquillamente! Roddino! Buonasera Roddino, anzi! Buona Pasqua gelataio! Dove sei? Così ti faccio gli auguri! Ok, lancia qua! Ok, perfetto! Rodd! Rodd caro, come stai? Tu lo prendi qua! Buona Pasqua Rodd! Buona Pasqua! Via, via, via! Ce ne andiamo qua al cerco, se è un posto a caso! Ho preso il primo posto che ho toccato col dito! Mi fa strano registrare senza le cuffie qua alle orecchie! Quindi sento di più la mia voce di quello che dico normalmente! Sento un'altra voce mentre parlo! Ma che roba strana è sta cosa! Che roba strana! Va bene! Gelataio caro! Dove sei? Così ti faccio meglio gli auguri! Dove sei Roddino? Dove sei? Tanto presto ci rivedremo! Ah, comunque preparatevi perché a fine video ci sarà una grande sorpresa per voi! Quindi rimanete sintonizzati fino alla fine! Perché ho da darvi una grandissima sorpresa! Ciao Rodd! Buona Pasqua Gelataio! Buona Pasqua! Fatti abbracciare! Sììììì! Mi ha abbracciato il nostro caro gelataio! Il nostro caro Roddino! Che è successo? Ho visto tipo un'animazione girare così in modo vorticoso senza neanche un significato! Va bene! Usciamo fuori! Ma direi questa volta di uscire proprio fuori dal gioco così facciamo gli auguri ai prossimi personaggi! Due personaggi che in realtà c'erano già pure nello speciale Capodanno! Ma se ne sono aggiunti altri due! Sto parlando di The Twins! Quindi passiamo al nostro caro gioco dove ci sono i nostri cari gemellini e i nostri cari nonnini! Ok! Sta caricando che ora io non vorrei dire! No! Non vorrei dire! Però questo gioco perché non lo stanno più aggiornando? È dal 7 gennaio che non esce un aggiornamento di The Twins! Io spero che non faccia la fine di Granny 2! O almeno spero che comunque se non stanno aggiornando questo gioco magari stanno facendo un altro gioco ancora! Come ad esempio il vero Granny 3! Sì attualmente la gente dice che questo qua è Granny 3! Ma in realtà questo è The Twins! Granny 3 sarà un altro gioco ancora che potrebbe uscire in futuro! Quindi devi fare le difficoltà anche facile! Va bene! Tanto dobbiamo fare gli auguri! Mettiamo pure gli ospiti! Così facciamo gli auguri! Bob! Buck! Granny! E Grandpa! Quattro personaggi insieme! Nello stesso gioco! Perfetto! Si parte! Cominciamo qua! Una cosa che a me piace tanto di The Twins! Che non c'è rispetto agli altri giochi horror! È la possibilità di saltare! No! Veramente! Guardate! È spettacolare sta cosa di poter saltare! È spettacolare! Va bene! Prendiamo qua la sprang! Apriamo qua il soffitto! In questo modo! Su! Su! Veloce! 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 Apri qua! Perfetto! Scendiamo subito sotto! Andiamo a cercare! Bob! Buck! Granny! E Grandpa! Così gli facciamo gli auguri! Scendi qua! In questo modo! Bravo personaggio! Ok! Andiamo a cercare qualcuno! C'è qualche nonnino! Bob! Buck! Siete da queste parti? Non lo so! Non sento la loro musichetta! Io spero veramente che possano uscire delle novità per quanto riguardano proprio la serie di Granny e Grandpa! Lì c'è Bob! C'è Bob! Ma perché mi manca questo gioco? Cioè mi manca proprio fare i video su Granny! Però se non ci sono novità! Se non ci sono aggiornamenti! Io su cosa li faccio i video? Cioè non posso inventarmi gli aggiornamenti dal nulla! Va bene! Vediamo qua se... C'è la nonnina! Buona Pasqua nonna! Buona Pasqua nonnina cara! Come stai? Guardate la lina nonnina come viene da me! Via via via! Vediamo qua se c'è qualcun altro da fargli gli auguri! Ok! Lì c'è Bob! Bob! Auguri Bob! Auguri! E lì c'è Grandpa! Ok! Ci manca soltanto Buck da trovare! E anche Buck! Buona Pasqua a tutti e due! Tutti e quattro! Tutti e quattro insieme! Me li sono beccati insieme! Sì! Che bello! Auguri tutti e quattro! Bob! Buck! Granny e Grandpa! Tutti e quattro insieme! E per ora dove mi fanno respawnare? Ah di qua direttamente! Che dite? Andiamo a fare gli auguri pure all'insettone gigante già che ci siamo? Ma sì! Dai! Andiamo! 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 Ok! Solo che ora qui avrò fatto un rumore! Com'è che non ho preso danno? Com'è che non ho preso danno realmente? No! Avete visto? Sono sceso e non ho preso danno! Vabbè! Meglio così! Meglio così! Fino a quando non prendo danno! Che non succede nulla! Sono più che contento! Va bene! Buona Pasqua! Insettone gigante! Buona Pasqua! Allora caro insettone! L'hai mangiato l'uovo di Pasqua? Ti è piaciuto l'uovo di Pasqua? Ma non credo proprio perché tanto non mi sta neanche calcolando! Sta lì così con la testa in quel modo che cerca di camminare e non si sa neanche dove! Neanche lui sa cosa vuole fare! Va bene! Direi che con Granny, Grandpa, Bob e Buck e l'insettone gigante abbiamo fatto abbastanza auguri! Ci siamo divertiti insieme a loro! Passiamo al prossimo gioco! Un personaggio che è comparso nello speciale capodanno precedente ma questa volta ricompare con un nuovo gioco, con un nuovo capitolo e presto tornerà con un altro gioco ancora! Sto parlando di Little Clown! Ed eccolo qua! Dead Park 2! A capodanno abbiamo fatto Dead Park 1 per fare gli auguri a Little Clown! Questa volta siamo su Dead Park 2! Ma preparatevi perché quest'estate uscirà Horror Clown Pennywise 2! Quindi Little Clown tornerà con un nuovo capitolo ma con un nuovo gioco! Allora tra l'altro gli stessi sviluppatori di questo qua hanno fatto un nuovo gioco, anzi hanno pubblicato un nuovo gioco che si chiama The Bunker o Bunker non mi ricordo! Che però purtroppo non ha nulla a che vedere con la storia di Dead Park! Va bene, direi di fare proprio un nuovo gioco! Partiamo da zero e facciamo qua una breve partita giusto per fare gli auguri a Little Clown! Nostro caro Clown! Che bello! Buona Pasqua It! Buona Pasqua! Allora festeggerei bene questo capodanno? Vabbè il filmato iniziale lo schippiamo tanto ci alziamo qua! Controlla la stanza di tua sorella! Ah qui c'è la tabella con tutti gli youtuber! Sì guardate! C'è il mio nome! C'è il mio nome qua sotto! Che bello! Grandi sviluppatori! Mi hanno giunto! Mi hanno giunto la tabella degli youtuber! Che bello! Controlla la stanza di tua sorella! Sì sì! Apri quella porta! Ciao sorella! Tutto bene? Tutto bene! La porta è bloccata dall'interno! Sì sì! Esplora la stanza dei genitori! Abbiamo capito cosa dobbiamo fare! Dobbiamo aprire quella cassaforte! Ma lì c'è una password! Cos'è? Ma non c'è la prima sta sirena di automobile! Devo dire che il gioco comunque è stato aggiornato in questi ultimi mesi che io non l'ho più portato! E hanno modificato a quanto pare pure alcune cose! Va bene! E 12 11 89! Questa è quella password! 12 11 89! Perfetto! Password indovinata! Prendiamo qua! Ma adesso guardate cosa succede! Compare il palloncino di Hit il Clown! Adesso prepariamoci! Perché entreremo nel mondo dei sogni! Nel mondo dove incontreremo Hit il Clown! Vai! Sì che bello! Perfetto! Siamo qua nel mondo di Hit il Clown! Adesso andiamo a salutare Hit! Caro Hit! Sei qua dentro? Eccolo lì! Ciao! Charlie! Sembra che tu abbia imparato a viaggiare tra i mondi! Hai visto che abilità che ho imparato caro Hit? Hai visto? Non ti aiuterà comunque! Tua sorella non si sveglierà mai! Poi ho rubato la sua mente! Ma tanto l'ho già salvata! Quindi caro Hit! È inutile che parli! Tanto ti ho già sconfitto una volta! Ti posso sconfiggere altre migliaia di volte! Comunque! Buona Pasqua Hit! No! E non portarti via mia sorella! Devo farti gli auguri di buona Pasqua! Ma dai! Ma guardate un po' sto clown! Devo fargli gli auguri e questo si mette a chiacchierare così! Ma perché? Caro Hit! Ve lo farti gli auguri di buona Pasqua! E tu te ne sei andato via così! Ma guardatelo un po'! Ma io non mi metto a cercarlo per fargli gli auguri eh! Perché io sono andato qua direttamente e quello se ne va via! Manco la Pasqua vuole festeggiare sto clown! Eh ma presto quando ti rivedrò su Horror Clown Pennywise 2! Caro clown! Preparati perché in mente è una bella lezione per te! Ma adesso comunque passiamo al prossimo gioco! Passiamo alla nostra cara suoretta! Sister Madalyn! Evil Nun 2! Ed eccoci qua su Evil Nun 2! Dalla nostra cara suoretta! E facciamo gli auguri di buona Pasqua anche ai polli mutanti! Quindi tocchiamo inizio e partiamo qua! Sì non mi metto adesso a girare per le varie parti della scuola! Perché tanto ce l'abbiamo già qua tutti quanti! Quindi è inutile mettersi a girare! Devi fuggire da questa scuola! Sì sì poi un giorno fuggirò! Un giorno fuggirò! Tanto l'ho già fatto un sacco di volte! Ho pure sbloccato il finale segreto! Evil Nun 2 è stato uno dei giochi più importanti su questo canale! Soprattutto con l'ultimo aggiornamento! Perché abbiamo scoperto le vere origini di Rod! Va bene ma già che ci siamo facciamo gli auguri a tutti quanti! Quindi buona Pasqua Mr.C! Buona Pasqua Rustel! Buona Pasqua Gammi! E buona Pasqua Sister Madeline! Ma adesso noi apriamo quella porta! Ok si sono svegliati tutti! Via 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 ciapolletti! Ciapolletti via via via! Corriamo corriamo corriamo! Ma poi io mi dico una cosa! Il pollo mutante è quello con la testa penzolante! Sei cieco come fa a vedermi? Cioè mi ha visto lui mi ha visto! Quindi tecnicamente non è così tanto cieco come si dice no? Non è così tanto cieco! La soreta sta ancora dormendo! Buona Pasqua suora! Buona Pasqua via! Via! No! 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 Appena l'ho svegliato subito! No devo fare in un altro modo! Io adesso vado a svegliare la suora! Dopodiché me ne scappo subito via dalla stanza! Così posso fare gli auguri anche la suora mentre sveglia! Vabbè notte è rimasta rituale! Va tanto sto rituale manco lo andiamo a fare! Però dai dai dai! Muoviti muoviti! Quindi... Suoretta! Buona Pasqua! Via via via! Scappiamo scappiamo tutti quanti! Rincorso da praticamente tre polli mutanti più una suora malefica! Via scappiamo scappiamo! Andiamo di qua a proviamo a vedere da questo lato cosa c'è! No non ti bloccare con la visuale! Dove sto andando? Mi sono perso! No 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 no! Dove è la suora? Mi è sparita la suora! Ho perso la suora! Meglio così! Ok! Apri qua la porta! Eccola lì! Suoretta! Buona Pasqua! Buona Pasqua suoretta cara! Chissà se la suora festeggerà la Pasqua! Chissà! Va bene dai! Con la suoretta ci siamo divertiti abbastanza! Adesso passiamo ad un altro gioco! Un giochino molto particolare! Uscito da poco ma vi sta piacendo un sacco! Ma in realtà sta piacendo un sacco proprio in generale! A tutti gli amanti degli horror mobile! Sto parlando di Evil Emily! Ed eccoci qua! Siamo su Evil Emily! Un gioco che è uscito da poco! Ma ho notato una cosa! Questo gioco sta interessando un sacco a tutti gli youtuber del genere degli horror mobile! Io ho visto gente che non ha fatto mai video né su Ericsson! Né su Smiling X Corp! Ma ha fatto video su questo gioco! E la cosa mi fa veramente tanto piacere perché è veramente un nuovo gioco horror! Che mette quella vera atmosfera horror! Quindi andiamo di qua! E andiamo a fare gli auguri di Buona Pasqua a Evil Emily! Che se li merita! Se li merita davvero tanto! Cara! Non sto per dire cara suoretta! Ma non è una suora questa! Non è una suora! È un mostriciattolo! Come faccio a chiamarlo? Vabbè! È una fanciulla posseduta! Dopotutto! Perché in realtà quella cosa che cammina sul tetto è una fanciulla! Ma è stata posseduta e ha preso quelle sembianze! Ed è diventata Evil Emily! Apriamo quella porta! Evil Emily! Emily vieni qua cara Emily! Fatti fare gli auguri di Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Auguri! Ha già preso subito così! No! Ha preso subito da Emily! Peccato! Peccato! Volevo fargli meglio gli auguri in realtà! Volevo farglieli molto molto meglio! Quindi facciamo una bella cosa! Entriamo direttamente dalla cantina! Troviamo qua una pietrolina! Pietrolina dove sei? Ah! Sti filmati così! E sempre sti filmati! Va bene! Prendiamo quel sassolino! Entriamo direttamente qua dalla cantina! Tra l'altro volevo ringraziarvi perché il video che... Il primo video che ho fatto su questo gioco tuttora sta continuando a piacervi! Tuttora c'è gente che torna a rivederlo perché gli è piaciuto! E mi fa veramente tanto piacere! Se ve lo siete persi mi raccomando andate direttamente nella playlist di Evil Emily che ho preparato apposta per voi! Dove troverete tutti i video che farò su questo gioco! Apri qua! Emily? Sedi qua? Eccola lì! Guardate! Guardate! Via! Via! Scappa! Scappa! Ok! Scappa! 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 Non farti prendere! Buona Pasqua Emily! Buona Pasqua! Come stai? Guardate qua come sta camminando! Guardatela! L'uovo di Pasqua l'hai mangiato Emily? L'hai mangiato l'uovo di Pasqua? Va bene! Facciamoci prendere! Mamma mia! Beh! L'altra volta mi è saltato addosso! Sto giro mi ha preso con la lingua! Però adesso dirò di fare una cosa! Passiamo ad un altro gioco horror! Perfetto! Siamo qua su The Virus X! Tocchiamo direttamente facile! Questo qua è quel gioco che ho chiamato Mr. Meat con il virus! In realtà non è veramente Mr. Meat! Però come potete vedere! Sembra un macellaio! Sembra Mr. Meat che ha preso uno di quei virus che fa diventare zombie! E' uguale! E' uguale! Sembra uno zombie! Sembra Mr. Meat che ha preso le zombie! Allora caro macellaio! Dove sei? Così ti faccio gli auguri di Buona Pasqua! Dove ti trovi? Dove sei? Fatti trovare! Fatti trovare! Dove sei? No veramente! Dov'è? Dov'è il macellaio? Eccolo qua! Auguri! Auguri macellaio! No! Volevo fargliela Buona Pasqua ma mi ha preso subito! Va bene! Va bene! Direi di fare una cosa! Usciamo un attimo dal gioco perché adesso vi darò una grande sorpresa! Allora siete pronti? Tutto per gli amanti di Ice Cream, della serie di Ice Cream, presto ci sarà una cosa che sicuramente vi piacerà! 3, 2, 1 ed eccola qua! Official trailer! Coming soon! Prossimamente tra pochi giorni uscirà il trailer di Ice Cream 4! Quindi preparatevi perché su questo trailer ci sarà un video dove farò la reazione insieme a voi! Cercheremo di scoprire nuovi segreti che verranno proprio visti all'interno di questo trailer! Per il momento direi di finire quel video, fatemi sapere cosa ne pensate! Ma soprattutto, mi raccomando, passate tutti quanti voi una buona Pasqua! Spero che questo video vi sia piaciuto! Se vi è piaciuto mi raccomando spalliciate, condividete! Iscrivetevi al canale con la campanella attiva! Noi ci vediamo in un prossimo video! E come sempre vi auguro una buona giornata, buona serata e una buona notte! Ciao a tutti! E buon panino a tutti! Anzi, buona Pasqua a tutti! E buon panino a tutti!